Ciao da Maria Cristina, questo è il terzo video, stiamo vedendo la storia della comunità ebraica a Roma. Abbiamo visto che cosa è successo fino a più o meno il 1600. Nel 1700 le cose non cambiano astronomicamente per la comunità, è sempre più difficile vivere nel ghetto, i palazzi sono sempre più alti, le condizioni sono sempre più... le stanze sono piccole, non c'è luce perché i palazzi sono molto vicini e la luce scende giù nelle strade solo a mezzogiorno e la vita è molto dura. Ma diventa così dura che nel 1825 il papa decide di allargare il ghetto. Abbiamo visto che il ghetto era Piccino Picciò e non ci stavano più assolutamente tutti gli ebrei che ci dovevano entrare e quindi si aggiunge un bloc, un piccolo pezzo che è qua in via della Reginella e poi fino a Piazza Mattei dove c'è la Fontana delle Tartarughe che forse avete già visto e giù in via di Sant'Ambrogio. Questi palazzi vengono a fare parte del ghetto e vengono chiusi con i cancelli. Questa è l'unica parte del ghetto che sopravvive ancora oggi, quindi non è parte dell'originale del 1555, quello è tutto andato, sono palazzi che potevano essere lì nel 1555 ma sono stati trasformati in ghetto solo nel 1525. Questa è la pianimetria oggi, l'area è ancora la stessa e se voi andate in queste stradine e guardate i palazzi vedrete che sono state aggiunte delle parti e sono stati rimaneggiati più volte per farci entrare più gente. Ma il bello doveva ancora venire perché nel 1870 i piemontesi hanno fatto tante cose a Roma e l'hanno molto piemontesizzata se volete ma la cosa bella è che con la presa di Porta Pia arriva lo statuto albertino anche a Roma. Che cosa voleva dire? Che la comunità ebraica era libera di fare quello che voleva, aveva gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini e non doveva necessariamente vivere nel ghetto, il ghetto era finito. Che cosa successe? Beh, per la comunità ebraica successe che muoversi fuori dal ghetto ad un certo punto decisero i governanti addirittura di distruggere il ghetto, era un'area troppo malsana e anche se vi ricordate sulla riva del Tevere c'erano le case, dopo il 1870 ci fu una grandissima inondazione nel dicembre del 70 e i governanti decisero di fare gli argini al Tevere. Come sapete adesso gli argini sono molto molto alti e quindi si doveva livellare la zona del ghetto, perciò quando hanno distrutto il ghetto alla fine del 1800 noi pensavamo originariamente che avessero distrutto tutto, ma in effetti non avevano distrutto tutto, avevano solo tolto via la parte sopra dei palazzi e lasciato i pianterreni, le cantine, le parti basse, in modo che arrivassero solo al livello degli argini del Tevere. Quindi adesso se scaviamo, come abbiamo fatto anche alla fine del 1900 e agli inizi del 2000, se scaviamo nelle piazze per lavori civili come di fognature, possiamo ancora trovare i piani bassi delle case del ghetto e vedere quante erano piccole le stanze e varie cose. Possiamo anche, un'altra cosa che fu distrutta, un pochino più in là nel tempo, fu il palazzo delle cinque scuole. Allora, iniziò nel 1900 la costruzione, prima rasarono tutto al suolo, iniziò nel 1900 la costruzione del nuovo tempio. La nuova sinagoga ha due parti, una spagnola al piano sottostante, ma la grande sinagoga, il tempio di Roma, è stata costruita tra il 1900 e il 1904, quando ancora c'era l'edificio delle cinque scuole, che era già andata a fuoco, probabilmente dolosamente. Però quello rimase fino al 1910, dopodiché fu rasato anche quello, che fu un grandissimo peccato per la comunità, perché mentre le cinque scuole erano stanze raccolte, dove la comunità poteva seguire i riti in un certo modo, nel tempio grande l'atmosfera era completamente differente. Andatelo a vedere, il tempio è bellissimo, è uno dei pochi edifici a Roma in stile Liberty, con decorazioni a siro babilonesi molto diverse da tutto il resto che potrete vedere a Roma. Se ci volete andare, dovete entrare da qua, qua sotto si fa la visita del museo prima, e poi si sale su nel tempio. Imparerete un sacco di cose lì, molto bello. Però si perse quel raccoglimento della comunità, che prima abitava tutta qui, e adesso invece era tutta sparsa. E quindi la gente andò ad abitare in tutta quest'area, fino a Via delle Botteghe Oscure, e in tutta quest'area fino a Via dei Giubonari, Campo dei Fiori, e poi anche in altre parti di Roma. Quindi la comunità si sfaldò un pochino, ma rimase, diciamo così, la piazza. La piazza che è la piazza del mercato, la piazza giudia qua, sia all'interno che all'esterno del ghetto, che era, diciamo, il centro pulsante, e che adesso è diventata la stessa piazza giudia, che non si chiama più così, quest'area qui, è la Via del Portico di Ottavia. Se andate in quest'area è come una piazza, c'è sempre un sacco di gente, molto differente da quest'area, dove in effetti non c'è quasi nessuno per le strade, sono strade molto più piemontesi, molto più larghe. Io sono nata a Torino, vi ricordo molto più Torino che non Roma, quest'area. Ma non è molto vissuta. Questa strada qua, invece, è assolutamente sempre piena di gente. Se andate qua di sabato a domenica, dovrete quasi sgomitare per passarci. È piena di ristoranti cocher, di diversi tipi, ma anche di pasticcerie tradizionali e anche di argenterie tradizionali e di anche supermercatini, negozietti tradizionali. È tutto vicino all'area del Portico di Ottavia. Si è scavato poi in quest'area, si sono trovate moltissime cose. Allora, la fontana che adesso trovate nella piazza delle Cinque Scole era una volta la fontana che c'era in Piazza Giudia, era di Giacomo della Porta, è stata spostata. E non solo potete andare a vedere il Portico di Ottavia, ma al Portico di Ottavia ci sono vari livelli. Ci troverete anche delle tombe medievali. E non solo quello che è successo nell'antica Roma, ma anche più tardi c'erano delle faide tra varie famiglie romane. E trovate delle tombe medievali attaccate a dove trovate gli stand per il pesce, perché c'era il mercato del pesce qua. E sia nella chiesetta vicino al Portico di Ottavia che in questa chiesetta qua troverete, erano le chiese dove c'era la prerica coatta. Allora, Tempio costruito ha iniziato a funzionare al 1904. All'epoca la comunità ebraica stava rifiorendo, aveva conosciuto la libertà e poteva fare di tutto, qualunque lavoro andava bene. Quindi, sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista finanziario, la situazione della comunità andava molto meglio. E si ritrovavano nel Tempio e nella piazza, diciamo, via del Portico di Ottavia, piazza Giudia. Successe che la comunità ebraica non solo iniziava a emanciparsi di avere più successo, ma anche il sindaco di Roma dal 1907 al 1913 fu parte di questa comunità. Ernesto Nathan, primo cittadino di Roma, era della comunità, faceva parte della comunità ebraica. Aveva un approccio molto universale, molto liberale. La sua famiglia aveva fatto parte del risorgimento, i suoi genitori erano amici di Mazzini, era un personaggio molto liberale, italiano ma anche un po' inglese. E quindi sembrava che tutto andasse bene. 1914-15, inizia la Prima Guerra Mondiale, i soldati della comunità ebraica fanno parte dell'esercito italiano, tale e quale come tutti gli altri soldati cristiani. E combattono per l'Italia, insieme. Ci sono non solo cappellani militari, ma anche rabbini militari. È tutto uno Stato e sono tutti cittadini dello stesso Stato. Va tutto bene. Ma poi chiaramente arriva il fascismo. E di questo parliamo nel prossimo video. Ciao da Maria Cristina.